Nuove positività tra i borghi e i sestieri per effetto dei grandi eventi. Ma la curva epidemiologica continua a scendere sul territorio Peligno-Sangrino. Sono 50 le positività messe a referto, comprese 11 reinfezioni così distribuite, 22 a Sulmona, 6 a Prato-La Peligna, Entrodacqua, 3 a Pacentro, 2 ciascuno a Pescassero di Castel di Sangro, Vittorito, 1 a Testa, Scanno, Raiano, Prezza, Gagliano Aterno, Campo di Giove, Bugnara e Barrea. Il netto calo si percepisce nel raffronto dei casi settimanali, lo scorso venerdì a quest'ora erano state annotate 73 positività sui registri ASL. Il virus allenta la morsa, come previsto dagli esperti, nonostante lo sbilanciamento sul fronte sulmonese che risente degli ultimi eventi. Nuovi casi si contano tra gli addetti lavori dei borghi e sestieri, mentre respirano le case di riposo dopo i nuovi focolai divampati nei giorni scorsi in una struttura di Sulmone e Corfinio. Il quadro epidemiologico nelle due strutture sensibili va ancora assestato. Complessivamente sono 1415 gli attuali positivi sul territorio a fronte di nove degenti, di cui uno in rianimazione. Intanto è stato comunicato in ritardo il decesso di una 82enne che sta raccolta da malora in casa. L'anziana era risultata positiva al test, ma il decesso non ha nulla a che vedere con il virus. Si tratta della 146esima vittima che finisce sull'apposito registro dall'inizio dell'emergenza.